Mi trovo nel pieno centro di Taranto, nel borgo Umbertino, in via d'Aquino, quasi ad angolo con via Regina Margherita, a due passi dal ponte Girevole. E' dinanzi a me una realtà, io la definisco bella e maledetta, mi riferisco appunto ai resti delle fortificazioni di epoca annibalica che risalgono al III secolo a.C., quindi un patrimonio storico, archeologico fantastico, abbandonato, che giace nel pieno degrado. Infatti, come vedete, l'impianto di areazione da anni e anni non funziona, si crea anche una condensa ed è cresciuta completamente l'erbaccia, un qualcosa di vergognoso. Taranto, capitale della Magna Grecia, non merita certamente questa situazione. L'amministrazione comunale di Taranto non interviene, la sovrintendenza non interviene. Ora, al di là delle specifiche competenze, io penso che un'amministrazione comunale e una sovrintendenza dovrebbero fare qualcosa. Invece, nulla. E così, caro Rinaldo Melucci, tu vuoi promuovere il turismo? Così vuoi parlare di Taranto, capitale della Magna Grecia, tenendo tutto questo ben di Dio completamente abbandonato? Questa è una vergogna. Lo dico anche a te, caro Assessore alla Cultura Marti, riconfermato Assessore. In quattro anni e mezzo non avete fatto nulla per questo, dinanzi a questo scempio. Vedremo cosa farete ora. E la cosa che più mi fa davvero raccapricciare è che in altre città d'Italia si mette una bella insegna, un bel pannello illustrativo. Qui invece dobbiamo ringraziare la fondazione Eurosei, che su Asponte si è degnata di mettere un cartello lì incollato, che mostra, che espone di cosa si tratta. Né comune né sovrintendenza si sono degnati di mettere un'insegna. In altre città d'Italia, per ogni pietra che c'è, c'è tutta la storia, c'è tutta una didascalia. Qui nulla. È scontato dirlo, ma valorizzando queste ricchezze storiche, si creerebbe anche una ricchezza, un ritorno per le attività commerciali, ristoranti, bar e quant'altro, trarrebbero beneficio da questa operazione di marketing. È possibile assistere a uno scempio? Che immagine diamo ai turisti? I turisti vedono una realtà bellissima, vedono la ricchezza della storia tarantina e poi vedono anche come l'amministrazione Melucci ha davvero calpestato la cultura. Ah già, Melucci è quello che ha seminato la rinascita e dopo aver raccontato queste favole, dice ancora, il meglio deve ancora venire. Quante chiacchiere, caro sindaco, ma io da consigliere comunale ti devo fare pelo e contropelo ogni giorno in nome dei 4200 cittadini che hanno riversato in me la propria fiducia.